No, no, non potete pretendere tutto d'un colpo, bisogna fare un gradino per volta, essere un po' gradualisti, cominciare con le riforme, si le riforme, poi piano piano salire, la rivoluzione, non ha fretta. Ma noi operai sì! Oh fratelli, bisogna innanzitutto costringere il padrone a venire a patti con noi, più protezione sul lavoro, più depuratori per i tuoi polmoni, operaio, cancellare la silicosi, il saturnismo che poi è il piombo nel sangue, vietare l'impiego di certi acidi velenosi, costringere il padrone a eliminare i frastuoni che rendono sordi e neurotici, Vietare i vibratori che rendono impotenti i suoni acuti soprattutto e gli ultrasuoni di certe macchine che ti fanno impazzire, ti fanno venire l'ulcera! Certo si può lottare anche per questo e può darsi che si riesca ad ottenerlo, non dovete dire no, può darsi, è possibile, infatti in altri paesi più progrediti del nostro, più democratici altri operai l'hanno ottenuto! Sì, l'hanno ottenuto, ma sono rimasti sempre degli sfruttati, un po' più sani, ma sempre degli sfruttati! E seduti, sì, seduti, perché per anni hanno lottato solo per questo! L'hanno ottenuto, per farlo si sono spiancati e ormai alla lotta di classe, alla riscossa del proletariato, alla rivoluzione, non credono più! Sono più che soddisfatti di quello che hanno ottenuto! E se ne fregano degli altri operai, loro compagni emigrati, sfruttati nella stessa fabbrica loro, dove loro si sentono brigliegiati! Ma noi no, noi no! Noi no, noi non diciamo di fermarsi, noi vi diremo di andare sempre avanti e con voi verremo, noi noi non ci sfiancheremo gradualmente, ma sempre avanti vi condurremo! D'altra parte, solo con le lotte minime, il proletariato si prepara alle grandi lotte e bisogna che si alleni poco per volta! Prima una lotta per il salario, poi un'altra per lo straordinario, un'altra per l'aumento, poi per la scala mobile, poi per il rinnovo, per il cottimo, per i ritmi impossibili! Piano, piano, gradualmente, non dobbiamo avere fretta! La rivoluzione è una cosa troppo seria per lasciarsi trasportare dalle parole, dalle parole d'ordine! Troppo avete ragione, non se ne deve parlare, ma non parlarne per niente, è ancora peggio! Troppo avete ragione, non se ne deve parlare della rivoluzione! Ma non parlarne per niente, è ancora peggio! Se in ogni momento non fai intendere all'operaio perché stiamo lottando, che la rivoluzione è il fine ultimo! Se tutto si risolve nella conquista di un piccolo vantaggio, per altro fittizio e momentaneo! Se al proletariato fai perdere di vista la meta, il traguardo finale, la sua dittatura! Ebbene, siamo capo a quindici, l'hai fregato! Piano, piano, ti accorgerai che gradualmente l'hai disarmato! E quando arriverà il momento, il più profizio alla rivoluzione, Sarà inutile chiamarlo alla lotta, sei addormentato! E tu l'avrai addormentato! Tu, partito riformista! Tu, sindacato! Tu l'avrai disarmato! Tu, partito riformista! Tu, sindacato! Ti accorgerai che gradualmente tu l'avrai disarmato! Tu, partito riformista! Tu, sindacato!